oggi con human siamo con david conti classe 1994 manager e brand ambassador che collabora con aziende riconosciute a livello nazionale benvenuto grazie vuoi raccontarci di più di te delle collaborazioni che hai in attivo con diverse aziende e soprattutto che non ti definisci un influencer e che come unici social che utilizzi sono facebook e linkedin per me la il discorso di instagram no che poi è quello diciamo dove oggi ruota tutto soprattutto perché comunque linkedin e facebook ce li ho quindi su questo mi trovate sicuramente allineato a quelli che sono i trend anche perché devo dire che comunque anche da un punto di vista lavorativo linkedin serve tantissimo ma per quanto riguarda social un pochino più diciamo glamour lifestyle chiamiamoli così come appunto instagram ho ritenuto e ritengo tuttora di non utilizzarli proprio perché per me vige una parola che la parola riservatezza e riservatezza significa che essendo un amante ovviamente di particolari particolari ristoranti piuttosto che avendo particolari abitudini come per esempio appunto quella della barca a vela diciamo preferisco godermi e vivere questi momenti in una maniera molto molto riservata voglio anche raccontarci riguardo alle tue collaborazioni più più nel dettaglio e soprattutto come si sviluppano queste collaborazioni con con i brand allora diciamo che ogni rapporto è made to measure c'è ogni rapporto ha delle sue peculiarità delle sue particolarità che comunque sia lo rendono unico nel suo genere quindi ci sono per esempio dei brand che utilizzano la formula del product placement no che poi è una delle formule più classiche ma soprattutto se posso la collaborazione più importante che poi si crea con queste aziende non è solo da un punto di vista appunto di prodotto ma anche da un punto di vista di network una delle cose più importanti al giorno d'oggi perché essendo punto di riferimento di tante realtà diverse fra loro magari che fanno parte di gruppi differenti oppure anche piccole realtà è molte volte che comunque hanno la loro dimensione e non vogliono magari a diventare diciamo delle multinazionali per appunto rimanere con un prodotto molto 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 di nicchia però che magari grazie a me trovano quell'opportunità di collaborare con aziende che magari fa parte di un campo totalmente opposto quindi diciamo che c'è un aspetto di network quindi ammettiamolo anche di advice ok e poi un aspetto puramente come dicevo prima di product placement quindi quando per esempio andiamo nel red carpet oppure negli eventi in particolari situazioni mettiamo quel particolare prodotto quella particolare cosa dal punto di vista economico ogni azienda ha le sue diciamo caratteristiche ha le sue peculiarità però diciamo che sono tutte soddisfatte ecco perché molti rapporti durano veramente da tanto collaborare con queste aziende non è solo una questione poi di chiamiamola immagine oppure anche diciamo di di nome eccetera ma ci vuole anche una una un sau affair chiamiamolo così per poter mantenere i rapporti ad oggi quali sono le le aziende che ti supportano e soprattutto in che modo lo fanno le aziende che mi supportano partirei da muet chandon per lo champagne in tutte le declinazioni della maison mi ha invitato anche la prima volta nel 2018 al festival del cinema di venezia dove ho assistito alla prima mondiale dell'amica geniale mi ha fatto anche capire da un certo punto di vista quello che significa stare in questi contesti poi ci sono altre aziende in particolare posso ricordare tag oir per quanto riguarda gli orologi con loro il rapporto nacque proprio diciamo in linea con con quello di moette per la mia passione degli orologi poi ci sono levis tra gli altri anche per i profumi la go f tram per un altro brand che diciamo voglio ricordare con cui ancora non collaboro in maniera attiva ci sei domen questi sono quelli più importanti poi insomma ce ne sono altri che magari con cui magari collaboriamo per una volta poi per un motivo per l'altro decidiamo di non proseguire però insomma questi diciamo sicuramente hanno un valore da un punto di vista intanto di prestigio del brand di self-affair ma anche poi di storia loro Com'è essere uno shareholder di diverse aziende a soli 26 anni? Per essere shareholder tu sai meglio di me che puoi essere shareholder di un'azienda quotata in borsa anche comprando una singola azione quindi non è detto che uno debba avere dei pacchetti azionari miliardari e milionari per diciamo prendere parte a quella che è la vita da un punto di vista societario esterno quindi di stakeholder di un'azienda ma a me ha servito tantissimo perché perché a me piaceva capire meglio le dinamiche aziendali ma da un punto di vista anche dei soci quindi di che cosa succedeva nelle assemblee di come un'azienda si poneva anche al mondo esterno quindi appunto ai suoi stakeholder e questa cosa qua mi ha permesso piano piano di individuare anche quale era diciamo il mio percorso mi ha permesso di capire molte dinamiche aziendali che appunto seppur da una formazione di quindi all'università ovviamente ho fatto economia e commercio ma quindi di materia economica diciamo non avevo mai capito perché poi effettivamente un conto è studiare le cose nei libri un conto è capire economia aziendale e sapere le cose di economia aziendale un conto poi è trovarsi davanti appunto a delle problematiche o anche a delle domande delle richieste fatti dai soci all'interno di una semplice assemblea poi chiaramente piano piano con alcune aziende sei accresciuto hai fatto anche appunto dei guadagni da queste cose con altre magari sei solo rimasto perché c'è un'affezione al brand eccetera eccetera però comunque mi ha permesso seppur non con investimenti ingenti di prendere parte a delle realtà che comunque erano molto interessanti ma imbarca da quando hai più o meno 14 anni se non erro e hai scritto diversi pezzi anche per il giornale della vela con tutte le collaborazioni riesci comunque a mantenere tuttora viva questa passione e soprattutto sei riuscito a trovare delle collaborazioni in questo ambito sì riesco ovviamente a mantenere diciamo vivi le due cose perché comunque anche quando vado all'estero di solito in resort che comunque ne dispongono cerco sempre una barca io prima la prima cosa che faccio è quella perché per me il mare non esiste se non è vissuto dalla barca perché è tutta c'è tutto un concetto dietro c'è tutta una vita dietro è proprio diciamo uno stile di vita all'andare in mare in barca quindi questa è la prima cosa ho iniziato appunto come dicevi a 14 anni e questa è stata comunque una cosa che mi ha trasmesso tanto anche dei valori devo dire perché comunque ti trasmette anche dei valori l'essere in barca insieme il viver dei momenti particolari collaborazioni in questo ambito allora la più importante sicuramente quella di sperry top cider loro praticamente per me dal punto di vista di barca mi forniscono tutti i prodotti di cui necessito è una passione che riesco a mantenere e anzi ho scritto appunto molto volentieri i pezzi per il giornale della vela perché comunque era un giornale che fin da piccolo mi ricordo che leggevo quali sono i tuoi progetti futuri se ce ne vuoi già raccontare qualcuno questa domanda mi mette sempre un po' difficoltà io apprezzo dove sono arrivato finora perché so che tante persone vorrebbero vorrebbero essere diciamo al mio posto comunque sono cose che poi diciamo non sono brutte no quindi però se dovessi darti una risposta su due piedi direi che la cosa che vorrei di più è quella di far convivere questi due aspetti no quindi l'aspetto della comunicazione eh con l'aspetto poi finanziario economico di manager eccetera eccetera perché perché nel futuro secondo me succederà questo quindi conserviamo questa intervista per il futuro per vedere se ci ho preso o no cioè che eh tutti i componenti di un management aziendale e in particolare anche il CEO eccetera eccetera diventeranno eh avranno sempre di più un ruolo eh diciamo da un punto di vista di comunicazione sicuramente nel futuro tutti i membri di un management aziendale come dicevo prima a partire dal CEO capo marketing capo comunicazione avranno sempre di più un ruolo in questo mondo anche perché come vediamo Instagram Facebook stanno avendo tantissimi tantissimi risultati e LinkedIn per esempio che ne parlavamo prima eh è proprio l'esempio classico di questo se ci pensi bene cioè la comunicazione legata al lavoro che in alcuni casi è brutta ma in altri aiuta anche tante persone aiuta anche tanti talenti quindi credo che le due quindi due pilastri per risponderti con una con una parola sola sono cercare di far convivere quindi eh questa eh finanza quindi economia con la comunicazione e soprattutto cercare di supportare il più possibile con quelli che sono i miei le mie possibilità eh sia appunto da un punto di vista di comunicazione sia da un punto di vista economico finanziario tutti quelli che sono giovani che potrebbero quindi nostri coetanei i miei coetanei eccetera che hanno dei talenti e che grazie a questo potrebbero svilupparli allora grazie David per essere stato con noi e mi raccomando seguite David Conti su Facebook e LinkedIn soprattutto grazie Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti